Pochi chilometri ed arriviamo alla chiesa di San Claudio Alchienti, una delle più antiche, risale all'undicesimo secolo e discura una delle più importanti per il romanico marchigiano. Richiama il modello della Doppelkappel, frequente soprattutto in Germania nelle chiese palatine. Due torricilindriche che contengono le scale la fiancheggiano. Le due chiese hanno una particolarità, sia l'inferiore che la superiore hanno la stessa pianta, pianta croce greca iscritta in un quadrato, articolata attorno a quattro pilastri che formano nove campate. Ecco i pilastri del piano inferiore. Il fatto che questo livello non sia interrato esclude l'ipotesi che sia stato costruito come cripta. Nell'abside è l'affresco di San Claudio raffigurato con la cazzuola. Nella vita era stato uno scultore, uno dei santi quattro coronati martirizzato all'epoca di Diocleziano. Dall'altro lato è raffigurato San Rocco. Strette buie e scale a chiocciolo ci portano su. E qui la struttura è ancora più evidente. Ecco i quattro pilastri e le nove campate, ma il fatto che l'ambiente sia spoglio lo fa sembrare ancora più grande. Se si dà per certo che la chiesa inferiore era una pieve, una chiesa rurale, che aveva annesso il battistero ed aveva alcune competenze per funzioni liturgiche, non vi sono certezze per quella superiore. Forse serviva da cappella per il vescovo di Fermo. La schiala a chiocciola inserita nel torrione mi riporta giù. All'esterno le tre absidi della facciata orientale, la centrale appena più grande delle altre, mascherano la struttura a due piani archetici che le sene percorrono le facciate. Anche le facciate laterali sono provviste di un abside. A San Claudio era già stata qualche anno fa ed il video di oggi si avvale anche del materiale di allora.